Sabato 26 settembre alle ore 18 nel mercatino di Pietrasanta a Lucca c'è la presentazione del libro L'Emporio, l'ultimo romanzo di Maria Pia O'Helker. Siamo venuti a fare qualche domanda all'autrice nella sua abitazione di Sansepolcro. L'Emporio è solo l'ultimo di una bella serie di romanzi? Sì, in effetti cominciano a essere diversi. Il primo ormai risale al 1992, quindi è storico. In questi anni ho pubblicato con varie case editrici circa nove romanzi. E hanno avuto anche diverse riedizioni? Dico circa perché poi ci sono dei racconti, delle poesie eccetera. Sì, uno ha avuto anche una riedizione, Il sasso nello stagno, che tra l'altro è un romanzo a cui tengo tantissimo. E comunque l'ultimo nato è questo, dell'Emporio, con una giovane case editrice di Pisa, la Sidebook. La Sidebook, che è diretta appunto da Stefano Mecenate. E lui è stato coraggioso perché non ti conosceva, ha letto l'ultimo manoscritto e poi ha deciso di pubblicarlo. Sì, in effetti io ho mandato il mio ultimo manoscritto a questa case editrice e dopo pochi giorni Stefano Mecenate mi ha telefonato dicendo che gli era piaciuto e che naturalmente lavorandoci un po' perché è ovvio che ogni case editrice vuol fare le sue migliorie e dopo pochi giorni appunto mi ha chiesto se avevo intenzione di pubblicarlo. Io naturalmente molto volentieri ho detto di sì. È stato un amore a prima vista ma si parla né l'Emporio anche di amore in maniera un po' particolare perché due persone vengono unite da un personaggio un po' misterioso che si trova appunto in questo negozio mirabolante pieno di cose antiche. Sì, fra i protagonisti appunto c'è il proprietario di questo emporio che è uno straniero arrivato in una piccola città di provincia abbastanza chiusa, abbastanza gretta e che decide di aprire questo negozio un po' particolare e quando infatti lo presenta alla protagonista del romanzo dice a lei piace di insolito perché in effetti questo negozio è molto insolito, ci sono cose di tutti i tipi e soprattutto il proprietario ha la pretesa, diciamo così, di vendere anche sogni cioè di aprire la mente delle persone che frequentano questo emporio alla loro creatività, fare scoprire loro quei sogni che sono nascosti che però ci sono e che devono venire fuori. E nei tuoi romanzi, ricordo tra l'altro le mani del giardiniere ma anche in altri romanzi, c'è una dimensione magica, fantastica, un po' misteriosa insomma in tutti i tuoi romanzi lasci intravedere che la vita non è solo quello che si vede. Sì, infatti a me viene sempre in mente, anche non vorrei sembrare presuntoso, ma insomma quello che dice Shakespeare nell'Amleto ci sono più cose tra cielo e terra che nella tua filosofia e infatti io credo che veramente ci sia sempre qualche cosa che sfugge alla nostra razionalità che forse è legata alla nostra natura più istintiva, al nostro inconscio e che poi si può materializzare nei nostri sogni sempre per citare Shakespeare, scusatemi, è vero la solita presunzione, la stessa stoffa di cui sono fatti i nostri sogni. Infine a Pietrasanta, in via Aurelia, in questo mercatino, quindi ci sarà anche un'insolita presentazione e in questo caso ti avvicinerai a delle persone che forse non si avvicinano facilmente alla lettura. L'ultima domanda è appunto questa, com'è facile o non facile avvicinarsi a chi non ha mai letto? Non è facile perché io credo che l'amore per la lettura sia anche una cosa che fa parte della nostra natura. Certo, a volte io credo che ci siano anche degli ostacoli, diciamo, materiali perché io ho visto che per esempio facendo delle promozioni e quindi in canali un po' insoliti poi alla fine la gente legge. Però a parte questo, poi è chiaro che gli argomenti sono tanti ci sono degli argomenti che forse toccano più o meno la sensibilità delle persone ma direi che forse i miracoli ancora... e quindi se l'amore per la lettura non c'è è anche molto difficile suscitarlo.